Questo programma è offerto da... A grande richiesta e con grande onore in questa puntata si torna a parlare di kart storici. A pochissimi giorni dall'evento clou dell'anno che si terrà come di consuetudine in quel di Iesolo, vi parleremo di questo straordinario evento che tutti gli amanti del karting vintage stanno aspettando. Tra poco vi presenterò il super ospite che ci è venuto a trovare qui oggi all'interno dei nostri studi televisivi di Sport Italia. Prima però diamo un ben ritrovata a Miriana Parlato, che non lo sapevo ma è una grandissima amante, del mondo retro. Esattamente Ricky, ciao e buonasera a tutti quanti i telespettatori a casa. Non lo sapevi tu, non lo sapevate voi a casa ma è così, adoro il vintage e quello di cui dovremo andare a parlare, quindi non vedo l'ora. Bene, oggi era in programma un collegamento telefonico col presidente dell'Asicarting Group, ma invece lui era a Milano, io gli ho atteso una trappola e l'ho portato qui all'interno dei nostri studi televisivi di Sport Italia, vi sto parlando di Giorgio Formini. Ciao Giorgio. Ciao Riccardo, buonasera a tutti. Tu pensavi di venire a Milano, da Torino, solo per lavoro, invece sei venuto anche per raccontarci quello che ci sarà tra poco a Iesolo. No ma anche perché mi hai salato dalla pioggia, perché perlomeno qui... Siamo a coperto. Bene, tra pochissimo per il settimo anno consecutivo andrà in scena questa Kermess mondiale, ma prima di andare a scoprire quello che state preparando, vuoi dirci da dove nasce l'idea ben sette anni fa di organizzare questo evento? Da dove nasce l'idea? Nasce da un personaggio, da un consigliere dell'Asicarting Group, che nel 2009 sulla pista di San Pancrazio a Parma, che è stata una pista epica per il karting, ha organizzato in chiusura dell'attività della pista una manifestazione esclusiva per i kart d'epoca. Di qui siamo stati naturalmente invitati, abbiamo osservato questo grande movimento intorno a questi mezzi che sono ultraventennari o dovrebbero esserlo, e l'Asi ha incominciato a fare attenzione a questa attività per certificare anche questi mezzi e portarli dentro la storia dei mezzi di locomozione, perché l'Asi si occupa di tutti i mezzi di locomozione. E quindi di qui è incominciato a parlarne e a costituire questo gruppo che io immeritetamente presiedo, e di qui le manifestazioni. Naturalmente la più importante e la più titolata è questa, che si ripete ormai da sette anni, a Jesolo sulla pista azzurra, che è un'altra pista incredibilmente gettonata dai kartisti, perché era la pista sulla quale si svolgeva la Coppa dei Campioni, Coppa dei Campioni che era l'alternativa al Mondiale, per cui su questa pista hanno corso Fullerton, hanno corso Senna, hanno corso un sacco di nomi, e quindi è rimasta la storia del kart, e naturalmente i kartisti che possono praticarla sono ben contenti di essere tutti gli anni presenti. Assolutamente, un continuo successo per l'Asi Go Kart Show, che in questi sette anni ha visto sempre più piloti presenti a questo bellissimo evento. L'anno scorso, nell'edizione 2017, erano quasi 200 i driver provenienti da tutto il mondo. Un gran successo, Giorgio. Sì, l'anno scorso è stato, ho visto all'inizio, con piacere ho rivisto, la ripresa dei kart che alla fine della manifestazione ha fatto allineare sulla pista. E chi conosce la pista di Jesolo, sa che il rettilineo principale non è breve. Ebbene, non ci stavano tutti i kart in fila, e quindi è stato un successo, il numero dei mezzi era quasi di 200 e altrettanti i piloti. Ci sono delle varianti perché ci sono dei piloti che vengono con 3 o 4 mezzi e altri sono solamente... Eccoli qua, guarda che spettacolo, che spettacolo! perché in fondo alla curva di arrivo abbiamo dovuto girare indietro per farli star tutti. Quindi è stato veramente cosa di incredibile, di interessante. Bene, vai Miri. Sì, ma quali saranno i kart che vedremo sfrecciare presso la pista azzurra di Jesolo il prossimo 25, 26, 27 maggio? Che appunto è qui a Preventi. Sì, ormai sono quello che ogni anno mi fa piacere constatare e che ogni anno i kart storici sono sempre più tenuti in condizioni o restaurati o comunque conservati in maniera eccezionale. Quindi quali saranno? Saranno naturalmente tutti quelli che hanno portato il kart in italiano alle grandi successi mondiali che ha ottenuto da sempre, da dopo che il kart dall'America dove è nato in Italia si è trapiantato e poi dopo ha vinto in tutto il mondo. Quindi ci saranno esemplari sicuramente di kart titolati e altri no, ma delle principali marche in testa la Dapp, la Beer, la Tonic Kart, tutti quelli che in Italia hanno avuto una storia. Assolutamente. Quindi saranno delle chicche, saranno dei diamantini. È vero, è vero. In questi anni i nomi di spicco hanno deciso di prendere parte all'evento da te organizzato, Giorgio. Vuoi farci qualche nome? Beh, direi che forse i più di spicco, tanto per Modena. Modena è venuto, naturalmente a questi personaggi dedichiamo la pista intiera e il pilota si esibisce in diversi giri e tutti i partecipanti osservano, applaudono e sono contenti di poter avere questa vicinanza con Piero del Passato. C'è stato anche As, che l'anno scorso è venuto qui in chiusura. È vero. Poi c'è stato anche Parilla. Parilla, parlo della casa della pasta Barilla, cioè è venuto. Paolo Barilla. Paolo Barilla è venuto ed è stato ospite. Anche lui ha girato sulla pista in solitario e anche lui ha raccolto diversi applausi. Ecco, tra l'altro c'è fatto il nome di Stefano Modena e Paolo Barilla. Loro hanno avuto la grande fortuna, grazie al signor Parilla questa volta, di provare a Jesolo il car di Senna. Noi abbiamo avuto la fortuna di filmare questo momento. Può partire a servizio. Grazie. 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 Rieccoci in studio. Che bellissime immagini che abbiamo appena visto. 24 anni fa, scusate, Ayrton Senna è venuto a mancare. Noi oggi abbiamo deciso anche un po' di celebrarlo facendovi vedere le immagini del suo go-kart, guidato in questo momento da Paolo Barilla. Allora, cosa si riprova a rivedere queste immagini, Giorgio? L'emozione è sempre la stessa, ricordando i tempi, qui parliamo di storie, i tempi di quando Senna correva e correva con la DAP, quindi da Parilla, che abbiamo l'onore di avere in commissione, ne parliamo sovente, sappiamo di aneddoti importanti sulla vita di questo giovane che arrivava da Brasile, si è trovato qua in Italia, è stato portato in famiglia dai fratelli Parilla. Tant'è che era molto bravo, ma ai mondiali è stato battuto due volte da Fullerton, sempre su DAP. E quando Senna, già in Formula 1, ha avuto un'intervista nella quale gli hanno chiesto chi è stato il suo avversario principale, Senna non ha parlato dei suoi avversari di Formula 1, quelli che erano allora, ma lui ha detto no, è stato Fullerton e ha spiegato il perché. E Fullerton, quando ha saputo di questa esternazione di Senna, è stato contentissimo e ne parla ancora adesso. Assolutamente. Noi andiamo un po' in pubblicità, al nostro rientro continueremo a parlarvi di Asi. Go Car Show. Mecomer, azienda leader nel settore dello sbaltimento dei rifiuti industriali, da oltre 50 anni al servizio delle imprese. www.mecomer.it Signori, benvenuti a bordo. Il viaggio può iniziare. Mettetevi comodi. Nini Virta. Velocità, sicurezza, affidabilità e tanta attenzione alle vostre merci in tutta Europa. Parco mezzi di ultima generazione a bassissimo impatto ambientale. Nini Virta. Un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede con consegne in tempi rapidissimi. Dal 2007, magazzino gestito con sistema radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Nini Virta. La prima azienda in Italia a utilizzare camion comportata da 10 a 15 tonnellate con trazione 100% elettrica. Nini Virta. Da oltre 30 anni, tagliamo traguardi vincenti insieme a voi. www.ninivirta.it Il tuo sogno in pista dà la possibilità a chiunque interessato di poter provare all'interno degli autodromi più belli ed affascinanti l'ebrezza di una vettura da corsa. Il cavallo di battaglia che il tuo sogno in pista propone è una performante Lotus Exige modello 240R vettura da corsa con 240 cavalli e un peso di 930 kg. Vuoi stupire? Regala le gift card personalizzate il tuo sogno in pista. Regalerai una giornata da pilota e assoluta adrenalina. Tutti i drivers verranno seguiti da istruttori professionisti e da un'assistenza tecnica in pista. Per informazioni www.iltuosogninpista.it Ben ritrovati nei nostri studi televisivi di Sport Italia. Vi stiamo parlando del settimo Asi Go-Kart Show che tra pochissimo sarà protagonista in quel di Jesolo. Sì Giorgio, noi sappiamo che come ogni anno presente all'evento ci sarà una vera e propria commissione per valutare la storicità dei mezzi e il loro valore, giusto? La commissione che Asi Karting Group porta avanti da anni è quella formata principalmente da Angelo Parrilla che ho già nominato prima da Gabriele Gorini che è stato un vincitore per tre volte la Coppa di Campioni a Jesolo di Geppi Proni e di altri specialisti di marche e di modello che non sto a indicare qui ma che sono numerosi. La certificazione, giusto volevo arrivarci, è comunque riservata ai tesserati federali, quindi soggetti che sono iscritti ad un club federato. Questo ci dà della difficoltà perché dato che in Italia qui faccio un appello, non ci sono esattamente dei club specifici. Asi raccoglie 300 e passa club ma automobilistici e motociclistici. Quindi l'interessato al tesseramento kartistico non si iscrive a uno di questi club perché non fanno parte di quello che interessa a lui e quindi bisognerà, e questo Asi lo sa, certificare dei club specifici di kart in maniera da poter tesserare questi appassionati e certificare i loro mezzi perché Asi cerca in ogni caso e soprattutto lo cerca con insistenza da anni di poter individuare il patrimonio storico del karting italiano e non solo italiano perché anche gli straniere hanno chiesto di essere certificati. Ok. Ecco, quanti go-kart storici indicativamente certificati Asi ci sono al mondo? Al mondo certifichiamo solamente noi in Italia e c'è un altro ente che certifica in Brasile ma che non utilizza il nostro regolamento che è quello che abbiamo fatto noi insieme a CIC nel 2011 quindi il regolamento è il nostro ma il numero non te lo posso dire ti posso dire una previsione che è meno del 5% della potenzialità dei kart certificabili in Italia all'estero non te lo so dire. Ok. Però Giorgio noi sappiamo che il mondo retro è sempre più in voga anche tra i giovani Qual è secondo te il segreto del successo? Cioè perché piace anche ai giovani? Cioè a me piace, tra parentesi. Certo, no no, ma torniamo al discorso di prima di questi miti automobilistici naturalmente che sono venuti importanti attraverso il kart il kart è un mezzo assolutamente propedeutico al motorismo e specialmente alla formula e quindi il giovane che si trova tra le mani un kart anche se è storico, non ha importanza ma che comunque dà un sacco di emozioni e insegna traiettorie e tutto quello che poi serve nelle ruote scoperte chiaramente lo fa con grande passione e interesse ancora di più quando il kart è storico che magari l'ha preso dal genitore o da qualche parente e non ha quei costi che oggi tu lo sai anche il kart ha in maniera forse eccessiva quindi il kart storico per noi è importante perché ricopre tante richieste e tante aspettative da parte di chi partecipa a queste manifestazioni in particolare alla Coppa dei Campioni Asi Go Kart Show Ecco, tornando a parlare appunto del settimo Asi Go Kart Show che entrerà in scena il prossimo 25, 26 e 27 maggio ci saranno come detto tre giornate dedicate naturalmente al karting storico però non trascurando mai e queste parole ad ordine dell'Asi la convivialità cosa avete organizzato anche per questo 2018? Siamo abituati a dare questi servizi e visto che i nostri club Asi sono federati oltre 300 viviamo sull'associazionismo e quindi vogliamo fare della convivialità la nostra bandiera per poter avere di ritorno i consensi e le iscrizioni non solamente alla Coppa dei Campioni ma anche a tutto quello che ne consegue Ecco cosa farete anche una bellissima cena il sabato sera sul Galeone questo ormai è un cult e la gente viene in massa anche per questo Ma sì, viene perché oltretutto Galeone ci porta sulla laguna a Veneta siamo stati un paio di volte a Venezia abbiamo fatto le isole quindi anche qualche cosa di turistico e di culturale volendo qui per esempio sto vedendo che stiamo passando davanti a Murano o Burano, Burano forse questa sempre su coloro del tramonto quando la laguna è bellissima e quindi si riposano non pensano al kart o pensano comunque ma stanno bene insieme si divertono e scoprono qualche cosa dell'Italia in tutto sommato non possiamo dire che la laguna a Veneta lascia incantati tutti quindi questi tra l'altro gli stranieri che sono sempre molti loro vengono con le roulotte vengono con altri mezzi perché sono molto più forse sportivi dei nostri però comunque quando sono di fronte al Galeone che sanno che ci porta a Venezia Venezia è sempre uno spettacolo quindi questo sta nel pacchetto della manifestazione come ci stanno tutte le prove che fanno nei tre giorni perché ripeto la manifestazione non è competitiva quindi si tratta di una manifestazione espositiva e dinamica i kart sono tutti esposti per chi vuole venirle a vedere perché ci sono veramente dei pezzi importanti e poi ci sono le prove dinamiche dove quello te lo dico tutti gli anni Riccardo vanno tutti quanti più forte che non fosse una gara perché quando li butto in pista e vanno col coltello in mezzo è apposta ma non abbiamo mai avuto incidenti perché sono anche molto ordinati molto scrupolosi quindi devo dirti che sarei contento che la manifestazione si concludesse sui numeri sui ritmi dello scorso anno ecco Giorgio in tutti questi anni pensavi di andare a colpire l'attenzione di così tanti piloti stranieri? Beh degli italiani forse sì perché avendo frequentato per anni le piste come te io le frequentavo perché portavo mio figlio Pier Natale che oggi ha 40 anni e che è ancora attaccato il kart e adesso va a fare invece i mondiali di quelli degli indoor ma l'ho frequentato come meccanico come padre quindi ho visto il mondo del kart è particolare quindi era evidente che queste manifestazioni avessero un buon ritorno gli stranieri non lo sapevo ma devo dire che devo ricredermi perché forse sono più gli stranieri che i nostri ad essere così entusiasti e partecipare chiedendo anche soprattutto le date in anticipo di sei mesi cosa che quest'anno non è potuto fare perché c'è stata l'elezione il nuovo consiglio dell'ASI quindi c'è stato per le delibere di queste manifestazioni non solo la nostra ma di quelle delle moto e delle macchine ci sono voluti dei tempi tecnici che abbiamo dovuto sopportare ecco per partecipare all'evento so che c'è un sito ci sono gli ultimi posti disponibili come si può fare Giorgio? beh su manovella di questo mese vabbè ma non arriva a tutti comunque scrivendo una mail alla mail della mail dell'ASI che è info.fi.fi asifed.it e chiedendo il programma e la scheda di iscrizione perfetto noi naturalmente con le nostre telecamere di Go-Kart TV saremo presenti all'evento e poi lo riracconteremo dagli studi televisivi di Sport Italia io volevo ringraziare veramente tantissimo Giorgio Formini presidente ASI Karting Group e ricordiamo il slogan dell'ASI? guarda è scritto qua se si può inquadrare ecco questo è lo spirito con il quale noi cerchiamo i tesserati dei club di Kart per poterli assistere e certificare loro mezzi quindi noi come questo è un climb che va bene non solamente per i Kart ma è per tutta l'attività dell'ASI e che dice inseguiamo emozioni e certifichiamo passioni quindi le emozioni sono queste noi le inseguiamo con queste manifestazioni assolutamente grazie mille a Giorgio Formini voi ragazzi non cambiate canale perché tra poco si parlerà di rally nella rubrica rally dreamer Miriana grazie mille come al solito grazie a te Enrico e buona serata a tutti rimanete su questo canale a tra poco questo programma è stato offerto da